Inizia una settimana super per quanto riguarda Bitcoin perché deve mostrare i muscoli e se non lo farà le questioni non si mettono molto bene Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ieri proprio in chiusura della settimana Bitcoin è andato a recuperare una pesantissima candela settimanale che stava disegnando proprio in extremis Annullando l'ennesimo pattern ribassista per fortuna anche accompagnato dalla positività che già sui futures questa notte Sui mercati internazionali erano usciti fuori i futures delle borse mondiali Quindi ha recuperato vedremo oggi la candela settimanale per fortuna ha fatto una bella candela di inversione Ma dobbiamo andare a fare dei segnali di forza questa settimana per indicare che sta iniziando un nuovo ciclo mensile Altrimenti la questione non si mette bene potrebbe allungarsi questa fase di riflessione dei mercati Oggi andiamo a vedere un po' tutto quello che riguarda l'analisi tecnica, l'analisi ciclica di Bitcoin Che cosa è successo e che cosa aspettarci per questa settimana ma anche poi un pochettino, un occhio a quelli che saranno i prossimi giorni Andremo anche a vedere quelli che sono i supporti e le resistenze per quanto riguarda Bitcoin per la settimana Quindi un po' di strategia operativa, un po' di strategia di trading Faremo poi un briefing su quella che invece è la situazione di Ethereum Perché Ethereum è sempre leggermente più chiaro di Bitcoin Quindi potrebbe indicarci un'alternativa che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi E andremo a vedere anche questa cosa qui ragazzi E poi, dulcis in fundo, un update su CRO Che ha toccato un bel massimo contro Bitcoin Ha fatto il touch della famosissima resistenza che vi ho mostrato nel precedente video Ed è ovviamente sceso, ha risentito un po' questa fase È finito il rialzo, non è finito Alla fase finale di questo video Parliamo anche del CRO Ma prima di andare avanti ragazzi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E poi vi porto per oggi quella che è la questione legata Alla promo Black Friday Che stiamo portando avanti Allora intanto vi ringrazio per l'affetto Perché veramente vi siete iscritti in tantissimi Quindi sono veramente stra contento come sempre per queste cose Io cerco di venire in conto il più possibile ragazzi Fino alle 23 e 29 del 29 novembre Black Friday su tutti i corsi Trading on il 20% Uno sconto che praticamente sarà impossibile da rivedersi Proprio perché questo corso lo sto già riregistrando Quindi tutti i nuovi moduli saranno messi a disposizione Anche di chi si iscriverà oggi a prezzi vantaggiosi Anche nel prossimo futuro Quindi è una cosa veramente estremamente estremamente conveniente Ok finita la pubblicità a me stesso Ma è me stesso Ci spostiamo sui grafici ragazzi Ogni tanto ci vuole anche perché Veramente mi lasciate sempre grandi 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 recensioni Su questo corso Sono molto contento ragazzi Lo sto rifacendo da capo e lo sto anche riascoltando Dopo anni e vi dico francamente È molto bello risentire queste lezioni Allora andiamo a vedere quella che è la situazione Dell'analisi ciclica di Bitcoin La questione ciclo mensile Iniziamo da quella poi facciamo analisi tecnica Nella giornata di ieri Bitcoin ha fatto in effetti Un minimo a 57,3 e 56 prezzi di Bitfinex Un minimo, un doppio minimo direi Ma comunque sempre inferiore al precedente 53,555 Questo insomma è inferiore veramente ai 100 dollari Fesseria Però tecnicamente potrebbe indicare Che ieri è stato chiuso il ciclo mensile ribassista Da 31 giorni Come vedete Stiamo in linea con quella che era la situazione Che ci aspettavamo già dalla scorsa settimana Questo il ciclo sembrerebbe che Di natura ribassista che Bitcoin ha disegnato Da qui in poi dovremmo avere l'inizio Di una nuova fase ciclica Di Bitcoin E poi andare a cercare di capire Che cos'è questo eventuale nuovo ciclo Se è il primo di un semestrale o meno Può andare a fare nuovi mazzi o non nuovi mazzi Quello che ci interessa adesso In questo momento ragazzi È quello di andare È la questione di andare a capire Che fin tanto che Bitcoin Non dà dei segnali abbastanza importanti In termini anche di superamento Di alcuni livelli Di cui uno vi metto già subito Questa superlinia E lo indichiamo insieme Cioè di 60.500 Secondo me Non c'è storia Cioè fin tanto che il mercato Non va al di sopra Di questo livello di resistenza Non possiamo indicare L'inizio di un nuovo ciclo mensile E soprattutto Ci sarebbe anche la possibilità Che Bitcoin Posta andare a fare A continuare questa fase Di trading range Barra Leggero ribazzo Anche per il mese Di novembre Vi faccio vedere un'altra cosa La candela di ieri Era stata una candela Estremamente Ecco la candela di ieri Quella sul settimanale Ragazzi Era stata estremamente Complessa Fino alle due ore Prima della chiusura Perché era una candela All green All red Quindi totalmente piena Tutta rossa Bruttissima Come questa Che lasciava Assolutamente Trapelare l'idea Che il mercato Potesse andare Ancora più in basso Nei Nei primi giorni Di questa settimana Infatti avevo fatto Anche uno short Dove indicavo Questa cosa Per fortuna Negato Questo tipo di pattern Bitcoin ieri Facendo un recupero Proprio sul finale Delle ultime due ore E disegnando Un pattern Che si chiama Hammer Cioè una candela Di inversione Questa candela Di inversione Però non è Al momento Confermata Cioè Questa candela Di inversione È stata disegnata Ma per essere Confermata Il mercato Deve salire Al di sopra Di questi massimi Ecco perché Vi sto dicendo Che il livello Di 60.000 E 5 È fondamentale E fintanto Che il mercato Non arriva In questo punto Non possiamo Dichiarare vittoria Questo porterebbe Ci spingerebbe Anche a delle anomalie Cicliche Perché potremmo Anche indicare Una struttura ciclica Di natura Ternaria Fatta così Che sono cose Insomma Estremamente complesse Ragazzi E porterebbe Questo tipo Di disegno Facciamo una cosa Ve lo mostro Tra poco Guardando Quello che è Il grafico Di Ethereum Perché su Ethereum Si vede Più facilmente Al momento Quindi Da un punto di vista Di analisi Tecnica Abbiamo Questo livello Di resistenza Come il livello Principale Da battere Questa settimana 60.500 Da un punto di vista Invece Di analisi Ciclica Potrebbe Iniziare Una nuova fase Un nuovo ciclo Mensile Ma Io Ho Dei dubbi A tal riguardo Purtroppo Proprio Per quella Che è La questione Ciclica Che vi Mostrerò Su Ethereum Tra pochissimo Ma prima di andare A vedere invece I supporti e resistenze Della settimana Di Bitcoin A livello operativo Come si può Anche andare A manovrare Questa fase Vi faccio Un altro Regalo Perché ragazzi Allora PrimeXBT Mi ha dato Dei bonus E dei coupon Da darvi Allora Prime è il mio Broker CFD Quello che utilizzo Per la leva Finanziaria Per fare Alcuni tipi Di operatività Sui mercati In valuta Bitcoin Soprattutto Molto Molto Speculativi Ragazzi Mi ha Dato Dei coupon E ve li metto Qui in Sovraimpressione Perché vi faccio Un giveaway 0.00 35 BTC Regalati Da Prime A chi Apre il conto Dal link In descrizione Così mi date Anche una mano Con il classico Ref ragazzi E inserite Questo coupon Quindi affrettatevi Adesso a copiare Questa schermata Bloccarla E copiarvi la schermata Sono tre coupon Quindi per tre Fortunati che stanno Vedendo questo video Quelli che lo vedranno Appena la campanellina Di youtube Vi dice Che è pubblicato Quindi avrete Questa possibilità Eccoli che arrivano Eccoli qui Ragazzi Andate a copiarvi Uno di questi Coupon Che vedete E lo inserite Nel vostro Conto Di Prime Prima registratevi Dal link Che vi lascio Qui in Descrizione E vi da Diritto ad avere 0.00 35 BTC Gratis Per fare Trading L'unica cosa A cui vi servono Questi BTC È per fare L'operazione Poi se guadagnate Potete anche prelevare Il vostro guadagno Ma non potete prelevare Ovviamente I BTC Ragazzi Non li potete prelevare Perché quelli Se li prelevate Si chiama Regalo di Natale Quindi non si può neanche fare Va bene Quindi vi faccio rivedere Lo schermato Ok Screenshot E vai Due tipi di strategie Di trading Secondo me Questa settimana Si possono mettere In atto Su Bitcoin Uno È un buy the dip Molto Molto Pericoloso Dovete starvi Fortemente attenti Quando fate questo tipo Di attività L'altra è invece Una strategia Di break out Proprio al superamento Dei 60.500 Di cui vi ho parlato Però c'è anche da dire Un'altra questione Bisognerà capire anche Quando il mercato Va a fare questo break Perché se lo fa All'ultimo giorno Da settimana Bisogna poi rifare Tutto da capo Allora vi faccio vedere Questa operazione Vi faccio vedere Questi punti Ma ricordatevi Che non do consigli finanziari Quindi non vi venete a scrivere Poi Ah beh è successo questo Ragazzi Ricordatevi che per fare Questo tipo di operatività Dovete essere formati E che se provate A fare trading O Speculazioni Soprattutto Molto veloci Senza la dovuta formazione Al 90% 90% Poi c'è esagerato Voglio essere ottimista All'80% Perdete tutti i soldi Che state mettendo Va bene Perché Non ve lo posso dire Qui c'è proprio Un gioco delle parti Va bene ragazzi Ora andiamo A vedere Questo Questi livelli Dai Ok Allora questi sono i livelli Intanto vediamo La strategia di breakout Che secondo me Dovete tenere sotto controllo Per questa settimana Questo qui Ve l'ho già detto È il primo Ed è quello Più importante Cioè A 60.500 E 500 Quindi 60.500 In break Attenzione che io Qui agirei Per lo più Su time frame Più bassi Perché dovrebbe essere Un break Che il mercato Può fare E poi magari Continuare Fino a dove Fino a qui Perché Secondo me Poi sbatterebbe Contro un altro livello Di resistenza E quindi Non avrebbe molto fiato Quindi queste sono operazioni Veramente veloci Non di posizionamento Holding Ma Fira 63 Potrebbe arrivare Invece la parte Del buy the dip Che so che interessa Moltissimi di voi È la parte più rischiosa Quando fate un buy the dip State rischiando Molto di più Di una strategia Ragazzi Di breakout Allora vi faccio vedere Il buy the dip Dove potrebbe Essere messo Allora Ci spostiamo Su questo Tipo di grafico Che è quello Invece giornaliero E vediamo Il buy the dip Potremmo andare A provarlo Se il mercato Prova a fare Un rientro In Vicino ai minimi Di ieri Perché vedete Questa candela Che è stata Anche una candela Di domenica Quindi ha poca rilevanza Perché è una candela Fatta con i mercati Istituzionali Chiusi Potrebbe essere Una candela Che il mercato Va a ritracciare Magari nei prossimi giorni E quindi va a dire Ok io mi posiziono Qui intorno ai 55 E vedo se effettivamente Questo minimo Può andare a reggere Quindi questo È l'idea generale Perciò Un buy the dip Una strategia eventuale Di buy the dip Dovrebbe Tecnicamente Posizionarsi Intorno ad aria 55 55 E 5 Da lì in poi Poi bisogna mettere Immediatamente Lo stop loss Perché se il mercato Continua a scendere Vi manda in stop L'operazione È andata in perdita Però questo tipo Di strategia operativa Si può applicare Questa settimana Magari qualcuno Di voi La fa Magari se esce fuori Adesso la faccio Anche io ragazzi Impostando l'operatività Su Prime XBT Semplicemente Andando ad aggiungere Un Un ordine Per esempio Qui in Buy A 55 E 5 Ok Lo metto così ragazzi E metto un buy limit È molto molto Semplice Quindi mando Il send order È il gioco È fatto Vedete Già impostata Questo tipo Di operatività Bene Allora Detto questo Vi faccio vedere Anche un'altra cosetta Cioè Alcune news Che sono uscite Questa settimana Che sono interessanti E poi andiamo a vedere La tabella Relativa Invece Alla Al quadrimestre Quindi Alla Scusate Al trimestre Quindi il Q4 Perché È ancora positivo Ma soprattutto Lo andiamo a guardare In quanto manca Un ultimo mese E quindi Anche la tabella Del Q4 Ci può indicare Che cosa può succedere Proprio In l'ultimo mese Dell'anno Intanto Va beh Fa sempre Sorridere Questo tipo Di Notizia Da parte Di E' sempre Un pochettino Più Tranquillo Questo ci può stare Perché Dice ok Le balene Comprano Quando il mercato Scendono Ma non è solo Microstarge Ma ha fatto sorridere Anche questa notizia Perché anche Il presidente Di El Salvador Che tra un po' Si appresta A diventare Secondo me Stile Un Elon Musk Del Bitcoin Si è andato A comprare Altri 100 Bitcoin Da aggiungere Ovviamente Ha parlato Di sconto Per quanto riguarda Il Black Friday Quindi moltissimi Hanno parlato Di sconto Per quanto riguarda Il Black Friday Di Bitcoin E nella scorsa giornata Il 26 De novembre Si è comprato Altri 100 Bitcoin Quindi sembrerebbe Che da un punto di vista Diciamo Di balene Questo tipo Di struttura A ribasso Questa Inversione Non inficia Poi un po' Quello che è il pensiero Dei grandi investitori Istituzionali D'altronde Anch'io la penso così Comunque Lo sapete ragazzi Ma andiamo a capire Invece L'ultima tabella Che guardiamo oggi Andiamola a vedere Perché Voglio farvi vedere Come da un punto di vista Eccola qui Di analisi Del Q4 Guardate L'ultima colonna Soprattutto Il valore In basso Da un punto di vista Di analisi Q4 Siamo ancora Positivi Nell'ultimo trimestre Dell'anno 2021 Siamo a più 30% Certo È una cifra Sicuramente Distante Da quelli che sono Gli anni d'oro Per esempio Nel 2020 Abbiamo fatto Il 168% Su Bitcoin E nella bolla Nel 2017 Il 210% Poi ci sono stati 82 62 Gli altri Sono stati Anni negativi Quindi questo 30% Denota Un po' Di debolezza Del mercato Al momento Manca ancora un mese Nulla pieta Bitcoin Di fare più 50% E magari Se lo fa Ragazzi Forze Plan B Dice che è contento Che ovviamente Nel mese di novembre Non ci ha preso Con le sue Previsioni Buttate lì Un po' Secondo me Troppo casuali Va bene Allora andiamo a vedere L'analisi Ciclica invece Di ETH Vi faccio vedere Questa Altra situazione Molto delicata Secondo me Da un punto di vista ciclico Analizziamo ETH E poi Update Su CRO Eccolo Eccolo ETH Ragazzi Allora Qual è la questione Legata ad ETH Come sempre Io preferisco Darvi un altro Punto di vista Proprio Quando andiamo A guardare Ethereum Perché così Abbiamo due Ottiche diverse Quindi una parte Bitcoin Una parte ETH Vediamo due Punti di vista Diversi E poi Il mercato Prende sempre Una delle due Quindi Noi siamo Un po' In una stanza Con la luce Come sono qua Io In quest'ambiente Perché siamo In una stanza Con la luce Ragazzi Significa che poi Chi sa gestire Un po' Le proprie posizioni Le proprie emozioni Chi ha La capacità Di farlo Perché magari A studiato Si è formato Un po' Riesce a gestire Molto meglio L'operatività Allora Andiamo a vedere Quella che è La questione Legata a queste Ipotesi Che mettiamo Nel nostro Sacco In questo momento Proprio In versione Ciclica Allora Cosa è successo Il minimo È stato fatto Il 26 Per quanto riguarda ETH Non ieri Questa è Già un'anomalia Quindi ETH Fa il minimo Il 26 A 29 giorni Ragazzi È un minimo Tra l'altro Un po' Particolare Perché questa Struttura centrale È una struttura Di trading range Del mercato Che non mi fa Ben sperare Perché solitamente Dal punto di vista Ciclico Queste strutture Sono la parte Centrale Di un ciclo Quindi Sembrerebbe quasi Come se il mercato Avesse fatto Già una chiusura Del ciclo Mensile E siamo già Nel mensile Successivo E non ci siamo Neanche accorti Della partenza Del nuovo ciclo Mensile Se così fosse Fino al 20 Di dicembre Difficilmente Riusciremo A fare Nuovi Rialzi Importanti Questa è la questione Ragazzi Ok Quindi se da Bitcoin Andiamo ad aspettarci Quello che vi ho detto Prima E vediamo Se supera i 60 Mila e 5 Per questo Vi ho dato anche Un livello di resistenza Questa settimana Da monitorare Molto importante Invece Su ETH Il livello Importante da monitorare È questo qui Ma non è detto Che il mercato lo faccia Quindi 4.500 4.600 Perché Perché se Da qui è iniziato sicuramente Un nuovo ciclo mensile Ma Se il ciclo mensile Di ETH Non è stato chiuso Qui ragazzi Ma è stato chiuso prima Allora siamo In una struttura Con tre cicli piccoli Che vi faccio vedere qui Che formano due mensili Cioè Vanno al 27 Di dicembre E quello che succede È che Il mercato Andrà a disegnare Un ciclo Fatto così Poi La fase Intermedia Fatta In questo modo E poi Il ciclo finale Fatto così Potrebbe essere Una fase Di totale E completa Trading range Lo sapremo A brevissimo Se per esempio Il mercato dovesse iniziare A rigirare Tra poco E soprattutto Se il mercato Non va al di sopra Di 40 Di 4.500 5.400 6.000 È sempre più probabile Andremo sempre di più Verso questa ipotesi Che Dovrebbe avere Diciamo Una sua fase Di Minimo Intorno All'immacolata Quindi 6-7 Di dicembre Lo so È un'anomalia È molto complicato Farvi spiegare queste cose Farvi vedere queste cose Su un canale YouTube Ragazzi Quindi prestate molta attenzione Ma l'ipotesi È quella Ternaria In questo caso Da un punto di vista Ciclico Eccola qui E porterebbe Il mercato A fare Esattamente Questo tipo di struttura 1 2 E 3 Poi Dove andiamo qui In questo minimo E soprattutto Qui nel mese di dicembre È molto Molto Importante Questo tipo di ipotesi Si sposa Alla perfezione Con quella Che è anche La questione legata Al ciclo superiore Il ciclo semestrale Di cui Ne parleremo Di cui parleremo Nella prossima Nei prossimi video Ragazzi Probabilmente La prossima settimana Va bene Andiamo al CRO Perché andiamo a vedere Che cosa sta facendo La cripto Di cripto.com E andiamo a vedere Il livello di resistenza Dove è impattato Contro bitcoin Perché come vi spiegavo Quello di bitcoin In questo momento È più rilevante Rispetto a quello Del dollaro Se è cambiato qualcosa Sì o meno E qual è un livello Da tenere Ovviamente Forte vette Sotto controllo Molti di voi Sono andati in panico È strano Come gli investitori Di queste criptovalute Vanno in panico Dopo che il mercato Va a chiudere Per esempio Vedete qui CRO Una settimana Alla chiusa A più 15% Invece dei massimi storici Perché era arrivata A più su Aveva fatto Più 50% E poi ha chiuso A 15% Questo è il grafico Contro BTC Non contro dollaro E ragazzi Vi ricordo che I mercati Non è che salgono sempre Guardate che cosa Ha combinato CRO In questa fase Quindi fai 420% Poi Va a stornare Un pezzettino Di quel rialzo In una settimana A dire Ah sta crashando Ma non capite niente Di mercato Se dite una cosa del genere Ragazzi Ah su Per favore Ok Andiamo a leggere Quanto meno Due pagine Di un pdf Se volete fare investimenti Ok Non è che qui È un banco Ma te vi regalano i soldi Va bene Allora detto questa cosa Vabbè che Ultimamente Diciamo nel mercato Delle cripto Siamo andati In mainstream Stanno uscendo Informazioni Senza senso Dappertutto Io di tanto sorrida A me piace tantissimo Questa cosa Perché Perché in realtà Ragazzi La verità È che quando È set Per caso Dovesse venire Mercato Mercato orso Ci facciamo due risate Va bene Scherzi Va bene Io c'ero Nell'ultimo orso E ve le ricordo Tutte queste cose Va bene Allora Questa zona Di CRO È la zona Di resistenza Questo punto Questo blu Ragazzi Trovate tutto Indicato nel mio ultimo video Non ho spostato Niente Quindi La primo livello Era questo Il secondo è quello Nel pump C'è arrivato È bloccato È risceso giù Non è riuscito A rientrare Sopra i massimi storici Ci sta Allora Quali sono i livelli Attualmente Importanti Da tenere a mente Allora Questi due Per quanto riguarda Il rialzo Per quanto riguarda CRO È fatelo riposare Almeno Qualche giorno Vi ho già Spiegato In un precedente video Che CRO Ama fare Questo tipo Di atteggiamenti Quindi Trend di natura Ad ascensore Discreti Si chiamano Uno e due Quindi probabilmente Si ferma un pochettino Va bene Quindi fatelo respirare Ho già dato Le istruzioni Dal mio Punto di vista Quindi non Consulenza finanziaria Ma semplicemente Idee generali Di che fare Trader e Holder Andatevi a rivedere Il mio precedente video E detto questo Ci siamo Da un punto di vista Invece di supporto La parte bassa Per quanto riguarda CRO Probabilmente È in questa zona qui È molto bassa ragazzi Rispetto a Bitcoin Quindi È lontano Molto lontano Dalla sua media Che vedete In questo punto Quindi c'è bisogno Di tanto tempo Questo è un grafico Settimanale Probabilmente La cripto Di cripto.com Inizierà ad oscillare Per un po' Di tempo Sarebbe anche Salutare A meno che Non faccia questo Break Se fa il break Di questo livello Di esistenza Su Bitcoin Potrebbe continuare A salire Ma è più probabile Che si vada Che si vada a chiudere In questo range Mettetele a rendita Ci sono tante cose Che si possono fare Nella DeFi Quindi Queste cripto Sono utili Anche per studiare Il mondo Delle criptovalute Non è soltanto Fare trading Imparate 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 Anche a entrare Nel vivo Di questo mondo Va bene ragazzi Video stralungo Per oggi è tutto Vi ho dato una marea Di informazioni Voi come state Adoperando Come vi state Adoperando In questa fase Fatemelo sapere Come sempre Nei commenti Fatemi sapere Quello che pensate Su quello che ci siamo detti Ciclo sì Ternario Non ternario Ragione termico BTC Purtroppo lo vedremo No Per fortuna lo vedremo Tra pochi giorni Speriamo sia Nellato Andiamo a fare Un nuovo mensile Ma Io un po' di dubbi Continuo ad averli Va bene Ci vediamo Nel prossimo video